oggi sono bagnati oggi sono bagnati non devi toccarli se tu lo tocchi spostato davanti se ne va o più veloce ascolta quando sei fuori ormai traiettoria meglio un piede che un 5 sei sei qua così dove cazzo vuoi andare non ce la fai più girare quindi o scendevi appena metti giù il culo ti ritrovi qua col davanti e poi vai a seguirlo tutto allora dopo lo chiudi di colpo perché c'è tanto sterzo ma se tu arrivi qua col davanti a finire la a sto punto ti raddrizzi ti fermi qua e riparti veloce se no non ti serve un cazzo il peso cazzo quando apre sta indietro anche qua indietro il peso posto l'ampelo tirala tirala a porca loca non vi ricordate proprio più niente il peso ma anche la il peso giri di qua il peso dentro cazzo questa qua va tanto devi pesarla tutta come side care devi spostarti perché se non ti sposti sulla moto non la tieni quindi Grazie a tutti.